Salve a tutti ragazzi Sto per fare un po' di streaming di Hearthstone Rete permettendo Proverò a streamare stasera finché riesco Quindi se volete unirvi Date un'occhiata al solito canale di Twitch Youtube No Youtube scherzavo Twitch.com Deripere93 Il link è comunque in descrizione Se l'ho detto male o se non avete voglia di iscriverlo Grazie a tutti E ci vediamo sullo stream per chi vuoi c'è